Regione, approvati la nota di aggiornamento al DEF, la legge di stabilità, il collegato e il bilancio previsionale 2024-2026. I provvedimenti della manovra sono stati approvati col voto favorevole di PD, contrari Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Italia Viva non ha partecipato al voto. Alluvione, approvata all'unanimità le misure finanziarie di sostegno a famiglie e attività economiche. Il provvedimento è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilari Bugetti. Istituzioni, scambio di auguri di Natale in Consiglio regionale. A Palazzo del Pegaso, i Presidenti dell'Assemblea Legislativa e della Giunta, Antonio Mazzeo e Eugenio Gianni, hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra istituzioni. Tra il pomeriggio e la notte di giovedì 21 dicembre, il Consiglio regionale ha approvato la nota di aggiornamento al DEF, la legge di stabilità 2024, il collegato alla legge di stabilità e il bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Tutti i provvedimenti sono stati approvati a maggioranza, a favore il PD, contro Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Non ha partecipato al voto Italia Viva. Oggi possiamo dire, in Toscana, di aver salvato la sanità pubblica. Quello che chiaramente ormai il governo vuol fare è quello di indurre, tagliando, impedendo di avere in questo caso 420 milioni di payback che ci spettano per legge e che l'anno scorso un diverso governo con il ministro Speranza avevamo avuto. Il tentativo è chiaramente di indurre, restringendo le spese alla sanità, di tagliare e spostare sulla sanità privata quelle che sono le indicazioni. Noi a questo ci ribelliamo. L'abbiamo dovuto fare proprio all'ultimo momento perché prima ci avevano fatto in qualche modo pensare che una situazione come quella della sanità toscana era un vanto per la sanità italiana e che quindi sarebbe stato rimediato a queste cifre, a queste risorse. Poi quando è emerso che tutto questo non avveniva, allora abbiamo dovuto prendere la posizione di incrementare quello che è l'addizionale ILPEF. Ma è un unatantum. Intanto quest'anno ci riorganizzeremo, cercheremo di limare, aggiustare e cercare di capire dove poter svolgere gli stessi servizi con meno spesa e al punto in cui arriveremo il prossimo anno nuovamente ci riporteremo a livelli più bassi di imposta ILPEF. Io non ritengo che la maggioranza sia stata mai messa a rischio. Forse era la centrodestra che pensava che qui ci fosse una crisi di maggioranza. C'era una divergenza di punti di vista. Una questione oggettiva che noi abbiamo, insieme al collega Sguanci, rimarcato dal primo giorno di questa discussione. Noi siamo contrari all'aumento delle tasse e abbiamo confermato questa nostra contrarietà non partecipando alla votazione che implica una tassazione molto forte nei confronti di cittadini toscani. Io l'ho definita fin dal primo giorno iniqua, ingiusta e non corretta per un livello di progressività che non ritengo corretto. Penso che sia legittimo discutere nel merito. A un certo punto di queste trattative, in queste giornate, si è entrati nel merito, non si è arrivati laddove noi volevamo. Perché noi pensiamo che non sia corretto che una persona, un professionista che guadagna 85.000 euro non debba pagare niente perché ha un regime forfettario. Non pensiamo che non ci sia una gradazione corretta che porti sulla fascia delle persone che sono una classe media, quelle persone che da 1.400 euro al mese guadagnano 2.500 a dover pagare più 97%. Questo ci ha consentito di disentire su questa misura. Questo non vuol dire che noi non stiamo in maniera attiva, importante nella maggioranza. L'abbiamo dimostrato facendo approvare nel DREF un atto importantissimo che per esempio sul collegamento fra Siena e Roma porta fondamentalmente un'innovazione straordinaria di collegamento ibrido. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo votato in termini di bilancio e di legge di stabilità tantissimi articoli che riguardano investimenti, opere pubbliche, riguardano i nostri comuni da Firenze ai comuni del territorio senese, aretino e pistoiese. Non solo, lo abbiamo fatto nelle misure di governo per quanto riguardano le imprese, l'economia, l'agricoltura. Noi ci stiamo in questa maggioranza e credo che dita la viva ci ne sia bisogno. Una manovra di bilancio che metterà le mani nelle tasche dei cittadini toscani era decenni che non si vedeva un aumento delle tasse in questa misura, 200 milioni che andranno ad incidere su una fascia reddito di persone che poi prendono circa 1.500 euro il mese, quindi non una operazione a cuor leggero che questa maggioranza ha dovuto fare dopo che per tanti anni il bilancio della sanità non versa ovviamente in buona salute. Questo purtroppo oggi arriva sui banchi del Consiglio regionale, l'aumento dell'IRPEF che andrà a toccare senza progressività e in maniera completamente fuori misura rispetto anche a quello che fanno le altre regioni italiane. Si vuol dare responsabilità al governo ma questa problematica noi la sappiamo anche in riferimento a quello che poi è il tema del payback che poi è un tema anche molto complesso. In realtà di questa situazione si sa in regione, ne abbiamo discusso già anche lo scorso anno, quindi si è arrivati alla fine ma quello che fondamentalmente va fatto è rivedere il sistema sanitario regionale partendo dalla riformulazione di quel piano del 2015 che ha centrato un potere amministrativo che invece deve essere riportato sui territori perché questo ha causato soltanto peggioramento dei servizi e aumento dei costi. Questa manovra di bilancio resterà nella storia, non credo, della regione toscana semmai nella storia fiscale della regione toscana come la manovra che va a mettere le mani in tasca ai cittadini toscani. È un qualcosa che pensavamo appartenesse a un'altra epoca politica. Noi abbiamo sperato fino all'ultimo momento che non si riportasse sulla scena politica quella dicotomia che appartiene al passato, per cui se i costi crescono e non si riescono a controllare l'unica maniera che si ha per limitarli è aumentare le tasse ai cittadini. Dispiace per due motivi. La prima perché i soldi del payback non erano sicuri di arrivare nelle casse della Toscana, non l'abbiamo scoperto ieri. Che non fossero sicuri, noi potevano anche arrivare, ma che non fossero sicuri lo sapevamo però da almeno 18 mesi e in questi 18 mesi tante volte anche dai banchi della minoranza è arrivato un invito al Presidente Ciani a mettere mano ad una ristrutturazione, ad una riorganizzazione del sistema toscano sanitario, che non è stata fatta. E poi all'ultima abbiamo dovuto aumentare le tasse. Attivare misure finanziarie urgenti e straordinarie per fronteggiare la situazione di grave emergenza derivante dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal 2 novembre 2023 sul territorio regionale. La proposta di legge, che è stata approvata all'unanimità, prevede un intervento finanziario straordinario per dare sostegno a famiglie ed attività economiche extraagricole, che hanno subito danni a seguito di quegli eventi e per cui il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza il 3 novembre. È una legge importantissima, è il primo aiuto concreto che arriva dalla regione toscana alle famiglie e alle imprese, che hanno subito danni dai recenti eventi alluvionali, ha detto la Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, la Re Bugetti, illustrando l'atto in aula e ringraziando il lavoro fatto dalla Commissione. Una legge molto importante perché con questa legge noi andiamo a dare un primo segno di solidarietà e di vicinanza alle famiglie che sono state duramente colpite dall'alluvione. In questa legge troviamo l'elenco di tutte le province e dei comuni che hanno subito danni e stanziamo la cifra di 37 milioni che saranno suddivisi in circa 12 milioni alle imprese e gli altri restanti alle famiglie, con un plafond che va fino a 3.000 euro di riconoscimento per le famiglie. È un primo gesto di solidarietà, di vicinanza, è un primo aiuto che arriva dalla regione toscana, un alto concreto. Insieme a questo i soldi per le imprese, le piccole e medie imprese, le aree commerciali e quindi con una parte che prevederà l'abbattimento degli ammortamenti e quindi tutta la parte degli investimenti e l'altra parte che sarà dedicata a comprare materiale che è andato deteriorato e quindi per acquisto anche di macchinari che sono stati sciupati. È una piccola cosa a cui speriamo si aggiungeranno presto le risorse del governo perché siamo consapevoli che questo non basterà, però nel frattempo questi 37 milioni di cui appunto una parte 12 alle imprese e il restante alle famiglie saranno, speriamo, un piccolo gesto che darà un po' di sollievo a chi ancora sta soffrendo. Credo sia stata la dimostrazione che da una parte ci sono gli appelli che ogni tanto arrivano ad essere responsabili, a non indossare le giacche di partito, a lavorare da toscani per il bene di tutti e dall'altra parte ci sono i fatti. Noi quando c'è da stare dalla parte dei toscani e da aiutare i toscani lo facciamo sempre, lo facciamo in maniera responsabile come l'abbiamo fatto su questa proposta di legge che porta i ristori alle vittime dell'alluvione del 2 del 3 novembre scorso, dispiace, dispiace tantissimo aver ascoltato il segretario regionale del Partito Democratico e purtroppo a lui siamo abituati, al governatore Gianni un po' meno strumentalizzare questa vicenda. Quando dice io andrò porta a porta dai cittadini toscani a chiedere se sono arrivati prima i soldi della Toscana o i soldi del governo, è una caduta di stile che non appartiene a Eugenio Gianni. Dispiace vedere un Presidente così nervoso, non è una gara a chi dà prima i soldi perché ricordiamo il Presidente Gianni che mentre c'erano 7 province su 10 della Toscana con il fango che entrava in casa dei cittadini è d'accordo di fronte ai microfoni a ringraziare il Presidente Meloni perché in un'ora il governo nazionale ha fatto arrivare i primi 5 milioni sul territorio per la prima urgenza e nessuno li ha rinfacciati. Sulla PDL alluvioni ho presentato un atto che già avevo fatto presente proprio in aula proprio al Presidente Gianni in merito alla necessità di rivolgersi a quelle persone, a quelle aziende che più hanno avuto disagi e che più hanno avuto danni e che hanno difficoltà anche poi nella compilazione dei vari moduli e quindi ho proposto una task force che parta poi anche dalla operatività della protezione civile e da quello che la Regione Toscana può concretamente fare per aiutare le persone ad avere i rimborsi perché purtroppo abbiamo vissuto anche nelle precedenti alluvioni tutte queste procedure burocratiche alla fine poi lasciano fuori purtroppo più della metà delle persone che effettivamente hanno bisogno invece di di vedere almeno tornare indietro qualcosa di quello che hanno perso sia in termini economici sia in termini rapporto con le banche ma soprattutto anche nei beni materiali che magari servono sia per la loro attività ma anche per tante persone e tante famiglie che hanno vissuto e continuano a vivere disagi importanti e non possiamo far accrescere questi disagi con una burocrazia e una mancata di efficienza nel supportare queste persone ad essere aiutate In Sala Gonfalona a Palazzo del Pegaso di fronte ad autorità civile e militari si è svolto martedì 19 dicembre il tradizionale scambio degli auguri di Natale con i presidenti del consiglio e della giunta regionale Antonio Mazzeo ed Eugenio Gianni presenti anche tanti consiglieri regionali membri dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale il presidente del corecom la difensora civica e la garante dell'infanzia e dell'adolescenza in sala tra i tanti presenti anche il sindaco di Firenze Dario Nardella oggi siamo qui per fare gli auguri a tutte le istituzioni ma anche alle cittadine e cittadini della Toscana quello che si sta per concludere è stato un anno complesso per tutti noi affermato il presidente dell'assemblea legislativa Antonio Mazzeo è stato un anno complesso complesso per tutti noi è stato davvero il primo anno post pandemia è stato un anno che purtroppo non ha visto terminare la guerra in Ucraina che ha segnato l'inizio del conflitto israelo palestinese tutto questo impatta perché a volte sempre lontano da noi sulla vita di ogni giorno oggi siamo qui per fare gli auguri a tutte le istituzioni fare gli auguri alle cittadine cittadini della Toscana auguri di un sereno Natale da vivere con le famiglie ma soprattutto che ci sia un buon inizio del prossimo anno che sia un anno di ripresa anche dal punto di vista lavorativo perché poi alla fine la dignità del lavoro è quello che deve essere al centro deve essere la stella polare del nostro impegno ci proviamo non sempre siamo all'altezza di tutto questo ma le cittadine e cittadini della Toscana dico che insomma l'anno nuovo che arriverà con le risorse che l'Europa ha messo a disposizione sarà un anno di vera ripartenza per la Toscana Grazie a tutti Grazie.